Forse la parte di via Messina Marine, quella zona un po' di fronte dall'ospedale Buccheri Laferla, quella zona forse che potenzialmente potrebbe, è un'altra di quelle che è proprio sul mare, forse è quella più degradata, anche più destinata a discarica. Questo non avviene qua. Lì forse c'è più degrado, meno consapevolezza del mare.